Uno spreco di denaro pubblico per la nuova sede della Polizia Locale, il caso così arriva alla Corte dei Conti con l'esposto che è stato presentato dal Partito Democratico, da Arezzo in Comune, dal consigliere Lepri del Movimento 5 Stelle ed infine da Leu Arezzo. Quasi 6 milioni per acquistare e demolire l'ex scuola e ricostruire la sede della Polizia Locale in via Filzi, una cifra spropositata, spiegano gli esponenti delle forze politiche coinvolte, che graverà sulla spesa corrente del Comune di Arezzo riducendo la possibilità di effettuare quelle indispensabili manutenzioni che il territorio richiede. Avendo trovato un muro di gomma in Consiglio Comunale, abbiamo portato le carte alla Corte dei Conti di Firenze. Sarà la magistratura contabile a verificare la congruità dell'operazione e a stabilire, come noi crediamo, se sia stato generato un danno erariale alle casse pubbliche. Il Comune di Arezzo proseguono, dispone già di una sede. Inoltre anche la volontà di trasferire il comando nella zona di Saione non rende indispensabile acquistare quell'immobile, poiché l'amministrazione è proprietaria di uno stabile in via Tagliamento a 400 metri di distanza da via Filzi. A nostro avviso, inoltre, c'è stata anche una scarsa trasparenza nel liter seguito dal lente. Facciamo nostre le preoccupazioni dei dipendenti della Polizia Municipale e vogliamo rassicurare ai cittadini che la riqualificazione e la sicurezza pubblica non si fanno con operazioni immobiliari di questo genere, come dimostrano anche le recenti attività di polizia nella zona di Saione e Pionta. Ancora una volta concludono come per Coingas e per gli spettacoli, Ginelli e Soci si danno alle spese pazze.